Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nell'eremo, l'eremo dei frati minori Cappuccini, proprio con un piccolo spazio dedicato alla preghiera, proprio dinanzi a questa immagine, a questa statua di Padre Pio, per parlarvi dei sogni, tanti sogni, quanti sogni, ecco un altro modo con cui Padre Pio visita chi ha bisogno di aiuto, di una parola di conforto, è proprio quello del sogno, lo racconta lo stesso Padre Marcellino nelle sue testimonianze, questo però potrebbe portare a lasciarci un po' perplessi, dopo che ascoltiamo tante testimonianze. E qui racconta Padre Marcellino, una volta discorrendo sull'argomento con alcune figlie spirituali senti fare il nome di Tonina Teglia, sorella di Fra Isidoro da Bologna, un frate minore Cappuccino, che mi avrebbe potuto dare qualche chiarimento, infatti mi recai da lei che attestò, una volta ne parlai a Padre Pio, padre tanti dicono che voi andate in sogno e date consigli come se foste presente di persone in quel momento, ma è vero, e Padre Pio con chiarezza e con tanta semplicità rispose, è un dono che il Signore mi ha dato. Padre Pio confermò quindi di possedere questo carisma in un'altra circostanza quando fece capire che non sempre però ci si poteva fidare del tutto delle immagini oniriche, infatti una certa Anna che faceva parte della scuola Cantorum diretta da Mary Pyle, l'americana, una volta raccontò un sogno a Padre Pio, alla quale chiese se veramente le era stato vicino quella notte parlandole. Padre Pio ascoltò prima con attenzione, poi le disse fin qui sono io, poi dopo invece è la tua fantasia. Rosaria Balacco, una testimonianza che risulta ancora utile ascoltare e ce lo racconta Padre Marcellino, una notte sognai di aver chiesto un consiglio a Padre Pio il quale mi diede una risposta precisa che io ricordavo perfettamente al risveglio, al mattino. Cominciò però a sorgere dentro di me un dubbio se veramente fosse stato lui a parlarmi. Avvicinandosi il turno della mia confessione dissi tra me è inutile che mi scervello, verificherò. Dopo qualche giorno mi confessai e chiesi a Padre Pio senza accennare al sogno ed egli subito e che cosa ti ho detto io?